questo per me è il primo grande gesto del 2023 poco fa ero in un negozio e a fianco a me c'era un bambino massimo dieci anni penso e nella cassa c'era l'ultima calza della befana quella kinder quella con tutti i dolci dentro che volevamo prendere entrambi comunque dopo svariati pianti lacrime lamente le urla addirittura davvero con un grandissimo gesto di maturità alla fine il bambino me l'ha lasciata